buongiorno buongiorno buon mercoledì che sembra però un martedì con questo weekend dei morti è un po strano buongiorno buongiorno buon mercoledì che sembra martedì perché praticamente con il fatto che c'è stato il ponte che cascava il 31 domenica e l'uno era lunedì martedì sembrava lunedì e sembra martedì comunque skin care fatta ho fatto le tracce perché voglio andare ad allenarmi e più tardi però voglio rilevare i capelli nonostante gli abbia lavati ieri perché devo partire domani mattina o meglio tarda mattinata vado in stazione centrale prendo l'autobus la navetta che mi porta in malpensa e da malpensa prendo il volo per cagliari vado a festeggiare il compleanno giù in in sardegna e mi sto preparando il mini beauty di qua delle cose che voglio portare allora sicuramente porterò la il kit boccoli che praticamente è la mia fascia appunto per fare i boccoli metodo ormai che non posso abbandonare troppo figo ragazzi sto impazzendo voi spero non lo sentiate ma c'è una macchina in lontananza che sta suonando il clacson da tipo 5 minuti ininterrottamente forse lo avranno chiuso sì lo avranno chiuso in un parcheggio perché non si spiega suona il clacson in maniera proprio continua da tipo 5 minuti pieni quindi comunque le fasce per capelli e quindi questo è uno poi voglio portare uno shampoo secco piccolino di air burst da lasciare giù in sardegna che così non posso portare quelli più grandi o anche una full size ma utilizzerò questo perché me lo fanno passare in in aereo questo da quanto è fatemi vedere da 50 quindi perfetto è il mio shampoo preferito del momento mi piace tantissimo mi piace moltissimo il profumo è il fatto che è proprio rinfresca tantissimo la cute da proprio una sensazione di fretta che collaboro con loro e sapete anche che ci sono i saldi se mi seguite perché ve l'ho detto ma la cosa carina è che adesso praticamente potete anche usare oggi è 3 ma tanto il blog voi lo vedrete che questo codice sarà già attivo perché attivo dal 4 e saido riventi voi praticamente questo codice lo potete aggiungere e quindi cumulare sia l'offerta dei saldi che vale per tutti sia il codice saido riventi che vale invece per voi che siete appunto mie follower non è un codice affiliato quindi che lo usiate che non lo usate per me è uguale è un codice che però io di solito come sapete richiedo sempre quando collaboro con i brand se è possibile avere uno sconto per per chi mi segue e questo è attivo a partire da oggi 4 di novembre fino alla fine dei saldi quindi potete cumulare l'offerta vi ricordo che l'offerta è che ne compri un prodotto loro ve ne mandano due e vale appunto su tutto tranne che sulla spazzola per il massaggio del cuoio capelluto su dermaroller e 3 kit sui prodotti singoli invece vale e le due cose sono cumulabili comunque ve lo lascio scritto in infobox e vi lascio scritti anche tutti e due siti l'italiano e l'europeo perché nel italiano praticamente non trovate le vitamine quelle che di solito prendo io al momento cioè le over 35 che praticamente si vendono solo sul sito europeo ma per voi è identico perché se ordinate del sito italiano del sito europeo non vi cambia nulla l'offerta dei saldi attiva su tutte e due il codice sconto attivo su tutte e due e non c'è dogana quindi potete ordinare dove più vi piace se intendete prendere le stesse vitamine che prendo io le trovate sul sito europeo le faccio vedere sono queste perché alcune ragazze mi hanno chiesto quale uso io io uso queste però ce ne sono anche appunto di diverse nel sito italiano trovate quelle gommose anche in versione vegan quindi è anche in versione credo per mamme e quindi sia in gravidanza che in allattamento comunque vi lascio i siti in infobox così da fino a sbirciata poi qua dentro metterò le gocce non so se le prenderò questa volta sto cercando di non prenderle più sono quelle che mi aveva prescritto il medico stata di un tranquillante proprio per gestire un po la paura del decollo che però devo dire ho sempre più lieve poi un contorno occhi porterò questo di linfa laboratori con ternocchi borse occhiaie con acido ialuronico collagene peptide e lo lascerò in sardegna perché in sardegna un sacco di campioncini di crema ma non avevo con campioncini contorno occhi quindi lo lascio lì e poi volevo portare alcuni trucchi che vorrei lasciare in sardegna avevo portato qualcosa la volta scorsa però andavo un po a memoria la volta scorsa ho fatto check scusate ma appena cambiato la mascherina c'è cinque minuti fa questa è la nuova la cambio ogni mercoledì e quindi faccio un po fatica se non deglutisco continuamente sbavo come un boxer quindi portate pazienza a parte il beauty il makeup vi faccio vedere anche il profumo lascerò giù plan soleil di brochet che io anche in versione full size quindi lascerò questa mini size giù così ho un profumino da usare che buonissimo questo veramente e poi dei trucchi e sto pensando di portare questi lascerò giù una delle mie ciprie preferite in assoluto sempre di brochet la pure light loose powder quindi la cipria in polvere libera mi piace tantissimo però ne ho più di una qua a milano adesso sto utilizzando ne altre quindi la lascerò giù una terra di bottega verde questa qua era una di una collezione estiva ha un profumo buonissimo è come terra mi piace tantissimo quindi la lascerò giù senz'altro e poi una cipria compatta lascerò questa di equilibra la miele della loves nature poi ancora vorrei portare la shimmer squad palette di lotti london che questa palettina molto carina che ha praticamente dei bronzer è un illuminante ne ho due quindi una la lascerò giù perché appunto questa è una terra opaca quella di bottega verde mentre queste sono appunto luminose più c'è un illuminante quindi vorrei appunto lasciare queste cose così mi posso diciamo scordare proprio di portare tutti i prodotti la volta scorso portato i pennelli quindi direi che viaggerò solo col mascara e prodotti per le sopracciglia che sono diciamo le cose che giù non ho per il resto o praticamente tutto tranne il correttore quindi prodotti per le sopracciglia e il correttore perché come via è mascara perché come avevo detto queste cose che sono cremose quindi sia il prodotto per le sopracciglia il mascara il correttore non mi va di lasciarle giù perché andandoci massimo se vado di frequente una volta al mese sono prodotti che userei pochissimo e secondo me andrebbero a scadere mentre le polveri non c'è nessun problema quindi queste sono le cose per il momento che metterò nel beauty però credo di non dover mettere niente di questo nel beauty dei liquidi per cui posso fare un beauty separato per queste robe qua è uno per i liquidi nei liquidi devo mettere sicuramente il profumo guardate queste due sono uguali come vedete a furia di essere utilizzata l'ho anche lavata e rilavata ma ormai la plastica si è come dire opacizzata però insomma finisco di utilizzarla quindi profumo contorno occhi questo e questo poi mascara prodotti per sopracciglia correttore li metto domattina proprio prima di partire direi che per il resto non mi serve nulla né trucchine nulla né creme niente di niente perché ho tutto giù aggiungerò solo i prodotti per le lenti che invece mi porto su e giù praticamente basta quindi questo è il mio beauty come abbigliamento ragazzi non porterò praticamente nulla se non quello che porterò indosso è forse un cambio di scarpe perché è arrivata la super scatola gigantesca che avevo inviato qualche settimana fa sì più o meno una settimana fa l'ho inviata è arrivata ieri mia mamma mi ha detto il corriere è stato gentilissimo me l'ha portata fin su se no non sarebbe ovviamente stato possibile perché gigante mio fratello purtroppo in quel momento non era a casa quindi il corriere veramente stato carinissimo e quindi quando io arriverò giovedì quindi domani dopo domani mi metterò a declatterare l'armadio delle cose cagliaritane in modo da smaltire quello che non mi piace e fare spazio nell'armadio invece alle cose nuove perché giù ho un bel po di cose ma molte sono veramente vecchie le avevo portate e mandate con una scatola l'anno scorso però alcune di queste cose proprio ho capito che non le uso nemmeno a cagliari e quindi via lo smaltisco farò anche lì un decluttering sistemerò l'armadio quindi ho il mio armadio di tutte le cose che devo portare per andare appunto in sardegna detto questo adesso mi volevo dare una truccata quindi mi trucco un minimo vado più tardi ad allenarmi in serata più tardi invece preparerò lo zaino peraltro mi è arrivata una mail da ryanair che mi dice che praticamente il volo domani ha un check in da fare piuttosto presto almeno cioè chiude il check in chiude ben prima del solito quindi devo arrivare almeno due ore e mezzo prima in aeroporto quindi domattina mi devo spicciare non devo fare le mie corse come al solito e questa volta ho deciso di non andare in macchina perché quando porto da bergamo porto la macchina ad un parcheggio vicino a bergamo il più conveniente che mi dà un sito che utilizzo utilizzo un sito che mi sceglie il parcheggio per la macchina più comodo cioè più economico porto la macchina lì poi dalla dal parcheggio con la navetta loro mi portano all'aeroporto ma c'è a malpensa ho deciso di non farlo perché erano piuttosto cari e mi conviene fare l'andata ritorno a 16 euro con la navetta che parte da centrale quindi contando navetta che parte da centrale a 16 euro più 4 euro di andata ritorno della metropolitana spendo 20 euro di di navetta se contate che ne spendo 10 di aereo perché l'ho pagato 4 90 al volo quindi neanche 10 euro spendo 10 euro di aereo e 20 euro di autobus vabbè è assurdo lo so però è così quindi adesso mi do una truccata mi sistemo e più tardi vado a ad allenarmi ho già mangiato e ho fatto oggi l'hummus ragazze di ceci vi do una dritta se volete farlo anche voi ma leggermente proteico aggiungeteci il tonno frullate tutto viene buonissimo praticamente io ho messo mezza scatola di ceci la spremuta di mezzo limone mezzo spicchio d'aglio una punta di semi di cumino cucchiaio di tahina tacina non mi ricordo mai come si chiama insomma la crema di semi di sesamo sale un pochino d'acqua per renderlo mini per abile se non è troppo duro non ho aggiunto olio perché appunto il tonno una scatoletta grande di tonno sgocciolata ma è comunque intriso d'olio viene buonissimo e poi lo spalmato su dei crostini super buono e me ne rimarrà anche per cena spero che non me ne rimanga tanto per domani perché poi devo partire si fa cattivo in frigo insomma va male però penso di finirlo entro stasera e domani a pranzo al massimo e basta ci vediamo più tardi così mi da una allora che strano milano piove molto strano vero c'è una roba che nessuno si aspetterebbe in novembre milano piove ogni giorno ogni giorno l'ho già fatta vedere la manicure tirato fuori questo vecchissimo smalto di pupa che non è proprio nero lo vedete che ha tipo dei una specie di metallizzato con del dorato dentro bellissimo e mi sono preparata tutta la roba che devo accorciare stringere modificare per la macchina da cucire ho 7 paia di jeans 7 7 paia di jeans da accorciate ne ho qualcuno da accorciare uno si è strappato in un punto dove si è scucito lo devo ricucire ma è un jeans che amo tantissimo e altri sono appunto da restringere leggermente qua in vita perché mi stanno larghi sette paia di jeans e in più in quella in quella scatola che ho di cose da mettere a posto ho eliminato delle cose che ho deciso di non mettere a posto ma di eliminare dall'armadio quindi fare una selezione vendere eccetera eccetera sono praticamente cose mai usate quindi super nuove magari le porterò al mercatino però che io non uso o comunque che sono di taglia sbagliata per me le avevo messe lì aspettando di capire se aggiustarle regalarle quello che ne dovevo fare insomma le avevo messe con la roba da aggiustare adesso mi sono messa lì a selezionare e anche queste quindi decluttering perché non mi stanno cioè questi pantaloni sono veramente molto carini peraltro non sono neanche di questo periodo quindi penso che li metterò in vendita in primavera quando sarà il loro momento vedete sono super leggeri tipo di tessuto di chiffon ma per me sono grandi sono almeno una 42 io porto una 36 quindi sono veramente piccoli per me per cui li venderò vedremo un po insomma sono molto carini però a parte che ne ho un paio praticamente identici stesso modello ma della mia taglia perché poi li avevo ripresi poi questi sono stati usati veramente poco mi servivano per una divisa che doveva essere blu e sono una taglia credo credo di avergliela staccata lo sapete no ecco sono una s di zara me la s di zara sta molto grande è una 40 appunto io una 36 quindi sono due taglie più grandi di me li do via li avevo presi praticamente per più grandi di più grandi della mia sono stanchissima li avevo presi per una divisa che dovevo essere appunto vestita di blu e potevo portare anche le scarpe da ginnastica e pantaloni crop e avevamo poi una specie di magliettina bianca con delle scritte blu era una promozione di un brand che aveva appunto scelto questa come divisa e avevo preso tutte quante questi pantaloni da zara che sono molto carini però per me sono veramente grandi 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 mi cascano quindi li dovrei restringere contando il fatto che io non amo neanche tantissimo questo modello al momento credo che li darò via perché non vale la candela cioè il gioco non vale la candela li metto in vendita e vai poi dei leggins da palestra sempre molto carini mai usati ma mi sono arrivati questi sono un po qualcuno qualcosa acquisti online qualcosa che mi mandano magari le aziende questi credo di averli comprati io se non sbaglio online mi piacevano tanto così grigio fumo perché ero fissata con questa arricciatura sulle ciapette e sono molto carini ma ripeto saranno almeno una taglia 40 o se non 42 quindi anche questi li metterò in vendita e quindi non li ho mai utilizzati sono fiammanti nuovi 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 poi sempre e ancora roba da palestra anche questa mai utilizzata e di sheen e mi sta però grande però è una taglia xs ma secondo me veste come la s la riproverò perché io ricordo che mi sta grande mi stia grande ne ho ordinata una da amazon chi mi segue su instagram la vista che mi sta perfetta diciamo stesso stile volevo proprio questa tuta vedete una tuta nera con gli incroci sulla schiena così insomma non so se si vede così a questo incrocio sulla schiena questo si passa dietro al collo e il pantalone ha praticamente degli inserti di tulle è molto carina però se quella che ricordo io è lì perché a me sta grande nonostante sia una xs secondo me avesse una s quindi la venderò poi ancora dei leggins anche questi mi stanno grandi sono una s ho imparato che non devo più prendere la s dai siti perché a me le s non stanno e invece ogni volta se c'è qualcosa che mi sembra carino dico dai magari una s piccola no silvia non la devi prendere e quindi li darò via guardate come sono carini neri questi sono molto carini tutti vedete traforati così sono belli ma senti stanno grandi stanno malissimo poi questo tessuto qua rimane tutto floscettino se non ti è aderente sono veramente terribili quindi mai usati anche questi per cui si possono vendere ultimo ma non ultimo questo me l'aveva mandato cap sci che è un negozio online di abbigliamento estivo è costumi bellissimi di ottimissima qualità infatti un vestito carino però ha delle taglie grandi non hanno l'xs di regola se non per pochissimi capi infatti primo ordine era andato praticamente tutto flop nel senso che ho preso tutte esse non avevo potuto mettere niente poi ho aggiustato il tiro avevo scelto le poche cose che avevano xs e poi gli ho proprio detto che non mi interessava più collaborare perché non non vestono la mia taglia però questo vestitino mi era rimasto ancora tra le cose la maggior parte l'avevo regalato a un'amica le cosine di capci due anni fa se non sbaglio prima del covid questo mi ero messa in testa di modificarlo perché ha veramente una fantasia che mi piace tantissimo vedete un vestitino in chiffon che si può assolutamente utilizzare d'inverno con delle calze pesanti un cardigan è assolutamente carino però ragazzi c'è il gioco non vale la candela ne ho tanti di vestitini quindi chi mi mette a fare tutta la modifica per un vestitino che tanto ne ho 15 così fioriti perché fiorati non fioriti fiorati perché avevo la fissa del fiorato non vale il gioco non vale la candela quindi lo lo venderò metterò tutti dei prezzi politici perché insomma 5 euro ecco una roba del genere per cui ho liberato ancora un bel po di cosa un vestitino tre leggings sportivi due pantaloni invece insomma per uscire non da balestra ecco quindi direi che sono stata brava e abbiamo altre cose da dare peraltro adesso volevo mettermi a fare lo zaino per partire domani quindi adesso prendo lo zaino questa volta penso che mi porterò il cuscino gonfiabile perché tutte le volte in aereo mi addormento e mi pento di non portarmi dietro il cuscino gonfiabile siccome a cagliari ho trovato quello gonfiabile mi porto quello che è quello che si mette qua no pratica questo qua che gonfiabile praticissimo perché poi lo posso appunto sgonfiare e mettere nello zaino nello zaino questa volta ci starà veramente poca roba non porto nemmeno il computer perché il computer mi serve per fare editing dei video ma non avendo la macchina fotografica che in assistenza sto editando i video col cellulare con un diciamo un editing un po di fortuna rispetto a quello che faccio di solito però insomma essendo l'iphone 13 e non più il vecchio scassone che avevo prima che cominciava a dare un po segni di cedimento mi sembra che il lavoro non stia venendo male quindi porterò semplicemente il treppiede su cui adesso sto riprendendo con l'iphone l'iphone batteria sostitutiva una chiavetta tanto un piccolo computer che avevo lasciato in sardegna e quindi magari è la volta che me lo riporto indietro e basta e quel beauty che vi ho fatto vedere e poi penso che mi metterò la tuta per partire semplicemente porterò in borsa un outfit magari per il giorno del compleanno penso una specie di tutina carina che se mi seguite su instagram l'avevo fatta vedere nelle storie e ve l'ho fatta vedere anche non so quando caricherò l'all di joe ins se lo caricherò prima se caricherò prima l'avrete già vista con la tutina stile chanel che io smitizzerò mettendola con gli anfibi e basta quindi porterò solo quelle un dolce vita gli anfibi basta tutto il resto non mi serve o di tutto di più di tutto e di più quindi porterò solo le cose che mi ha fatto vedere quei pochi trucchi che lascerò giù gli occhiali la vista gli occhiali da sole gli occhiali da lettura è praticamente i prodotti per le lenti massa c'è la porta mascherina ecco quelle cose proprio indispensabili che fanno avanti e indietro con me perché non ho un doppione in sostanza però non mi serve niente niente di beauty niente di trucchi tranne quello punto che lascerò giù vestiti è arrivato lo scatolone quindi sarà posto che ho tutto giù il computer non lo devo portare quindi lo zaino è praticamente vuoto porterò giusto appunto ma proprio perché il mio compleanno e voglio portare questa tuttina da mettermi perché boh giù non è che ho tante cose tipo vestitini così se vado a cena fuori magari preferisco essere vestita carina almeno una volta e basta questo è quanto noi ci vediamo con il prossimo vlog perché sono le dieci meno venti giusto sì perché quello fa le undici meno venti ma non ho ancora cambiato l'ora solare sono le dieci meno venti domattina al lavoro il capelli così partirò con i capelli puliti preparano lo zaino e verso mezzogiorno e mezzo mezzogiorno e quaranta andrò a prendere appunto in stazione centrale il mio autobus noi ci vediamo domani con un nuovo video vi ringrazio per aver visto questo blog spero di avervi tenuto compagnia se così è stato vi ringrazio e come al solito se vi va iscrivetevi al canale ti fate la campanella e lasciate un like al video ci vediamo domani con un nuovo video un bacio e penso che il nuovo volvo e penso che il nuovo blog sarà in sardegna così magari vi faccio vedere un po i miei grandi festeggiamenti per il mio mezzo secolo non farò niente di speciale però ve lo faccio vedere ciao